Grazie Presidente, questo è il quarto regolamento che andiamo ad approvare in meno di tre anni di governo della città, quindi sono molto contento perché per quanto riguarda la gestione dell'impiantistica sportiva, degli eventi, delle palestre scolastiche, abbiamo portato a conclusione una riforma e un ammodernamento importante di quelle che sono le regole che vengono applicate dalla nostra città e dunque un passo importante che oggi andiamo a compiere. Vorrei permettetemi di ringraziare tutti i collaboratori che hanno lavorato e che mi hanno sopportato per tanti mesi perché appunto sono stati testi complessi e quindi ringrazio tutto lo staff della Commissione, la Morlacchi che ha lavorato molto stretto contatto anche fino appunto alla commissione di poco fa con i dirigenti delle strutture, Michele Ruggero, Manuela Lasio e Daniele Tigani, anche per ricordare anche loro, Claudia Dario e tutti i collaboratori Mary Genovese, spero di non dimenticare nessuno, Sandro Raviglia perché noi siamo qui poi a illustrare ma dietro gli atti che portiamo c'è un lavoro importantissimo che viene fatto dai nostri collaboratori e quindi vorrei dedicare a loro anche un ringraziamento e naturalmente anche Luisa Damiano, credo di averli ricordati tutti. Grazie.